le conversioni adulte possono essere anche le più affascinanti le più significative che cosa ti ha permesso di scoprire in realtà io credo di essere sempre la stessa nel senso che non credo negli incantesimi nella vita non credo che che niente poi riesca veramente a trasformarti totalmente però sono accresciuta cioè l'essenza è la stessa identica però c'è questa possibilità appunto di accrescerti e di come aumentarti in qualche modo e quindi credo che sia quella la cosa e poi soprattutto mi costringe a pormi più domande